Oggi siamo a Petriano e stiamo seguendo il percorso di tutte le 50 capitali della cultura 2024, i 50 comuni, quindi 50 per 50 al quadrato, dove ogni settimana a turno ognuno darà il meglio per valorizzare le bellezze del proprio territorio. Ci troviamo all'esterno della chiesa di San Martino dove a breve inizierà un concerto di pianoforte e anche una lettura di poesie. Seguitemi perché abbiamo un sacco di cose belle da mostrarvi e di personaggi da cui imparare tanto. Ci sarà un concerto di pianoforte realizzato da Cesare Donati con l'intervento del coro polifonico incanto di Gallo e l'abbiamo fatto per valorizzare il comune di Petriano, il castello. Ci troviamo nella chiesa di San Martino che è al centro del castello, è una chiesa medievale, esiste dall'undicesimo secolo e quindi noi abbiamo approfittato della vetrina di Pesaro 2024, capitale della cultura, per far vedere che ci siamo anche noi e che il nostro comune è storico, è importante e quindi abbiamo deciso di fare la prima serata qui. Devo dire che è ottima l'idea del comune di Pesaro di dare l'occasione a tutti gli altri comuni di partecipare a questa iniziativa 50x50, un'idea partita due anni fa, un'idea vincente che ha visto l'unione e la condivisione da parte di tutti in questa grande iniziativa che ci porta al centro della cultura italiana. Quindi questo è il primo evento, poi se ne sarà un altro sabato sera. La nostra musica partirà dai compositori della musica barocca, quindi faremo i tre più grandi compositori della musica barocca, quindi Bach, Vivaldi ed Endel e poi proseguiremo il nostro percorso con un brano in onore anche delle donne che sono rimaste a casa, causa guerra e quindi è una wherever you are si chiama il titolo, che è una canzone composta da corrispondenze di queste donne che hanno scritto delle lettere ai mariti che sono al fronte, quindi questo anche per denunciare che comunque la guerra è qualcosa di veramente inutile con l'auspicio che poi possa arrivare alla pace il prima possibile. Abbiamo scelto insomma dei brani tratti dai musical più famosi nella storia, quindi dai miserabili di Claude Schoenberg, dal musical Air Spray e anche da una serie tv particolarmente celebre in Italia, Medici, Masters of Florence. Tra questi abbiamo anche insomma inserito dei brani classici, tendenzialmente scritti per organo, che per l'occasione ho cercato di riadattare per pianoforte. Diciamo che canto un po' tutto, mi piace cantare tutto, mi piace sperimentare, se dobbiamo racchiuderlo all'interno di un genere diciamo pop, però mi piace sperimentare un po' tutto, sono un amante di tutti i gusti musicali e quindi cerco di integrare un po' di quello che mi piace e di quello che funziona ecco tra virgolette. Io e Cesare ci conosciamo da diversi anni, ci siamo conosciuti proprio in un contesto di musical, quindi siamo riusciti a capirci, a intenderci molto velocemente, abbiamo costruito il repertorio in maniera molto semplice, ecco.